Salve a tutti amici, in questo video vediamo come cambiare la lingua di Windows 8, quindi l'interfaccia utente e l'interfaccia della tastiera, ovvero la tastiera stessa. È un'operazione molto semplice, allora basta andare qua a destra e attivare la barra, impostazioni, andiamo poi in basso, modifiche e impostazioni PC e andiamo a data, ora e lingua. Andiamo in area geografica e lingua e qua possiamo aggiungere una lingua. Questo può essere utile sia se abbiamo Windows 8 in inglese, magari lo vogliamo tradurre in italiano, oppure viceversa, ce l'abbiamo in italiano e vogliamo passarla ad un'altra lingua, sia ai fini d'apprendimento o altro che sia. Allora basterà aggiungere una lingua, quindi non importa nemmeno rimuovere l'italiano, aggiungere una lingua e scegliamo la lingua che desideriamo. In questo caso metto inglese, inglese Regno Unito. Una volta selezionato, ovviamente servirà internet connesso, language pack disponibile, facciamo tasto destro, scusate no, tasto sinistro, opzioni e dobbiamo fare scarica. Una volta scaricato il language pack, basterà semplicemente impostarlo come principale, quindi cliccare qua sopra. Quindi una volta che si vuole tornare alla lingua madre, torniamo qua sopra e lo impostiamo come principale. In questo momento lo è già quindi disabilitato. Tutto questo senza comprare altre licenze di Windows 8, quindi sistema semplice, veloce e gratuito. Un saluto a tutti.